ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video allora noi siamo io e mio zio io e vincenzino e mio zio ciccio oggi iniziamo una carrellata di video cioè videogiochi di halloween dato che fra un po' arriva halloween noi abbiamo deciso di fare questa cosa oggi giochiamo a halloween hobby e niente iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale lasciate mi piace attivate la gammarellina esatto questa qui ovviamente halloween hobby questa è la nuova nostra skin falla vedere bravissimo eh ragazzi anche nelle linee qua certo certo abbiamo messo i codini qua di là ok dai iniziamo allora ecco qua ok qual è il problema qual è il problema preferiti va bene però non iniziamo di nuovo con questi preferiti eh mi raccomando ok bravo vai così vai così ok 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 tipo c'è poi ah si scioppa tutto non lo sapevo non lo sapevi ok adesso zig zag zig zag ah si cammina furpo ah non lo sapevo questa cosa bene bene abbiamo scoperto una nuova cosa ragazzi ok e secondo checkpoint 100 mi questo tappeto qua serviamo a 100 siamo al 3 per cento va bene ok dai che sei andato benissimo dai terzo checkpoint vai così ai 4 per cento quando salta sembra anche un po' di io allora attenzione adesso dove diventare su questo coso attenzione bene bene così bravissimo eh ragazzi guardate come si gioca no 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 ma scherzo non sembra difficile sembra un coniglio che i conigi si potrebbero anche saltare così beh sì i conigi saltano dai sei per cento vai dai sesto secco di organisations sembra legato il coniglio in coniglio in coniglio in coniglio in coniglio che mi si do vai punti mia questa varpa l'ho già fatta io questa più c'è giocata ce n'è ha giocato sì però non fa niente se la faccio ancora va bene a vici ci ha allenato una furbacione attenzione 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 ok altro checkpoint e si vede che si è allenato qua io mi sembra già perché ho fatto doppio salto va bene va bene ottimo così continua benissimo mamma mia aspetta 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 non ci devo toccare questi rota benissimo così ok fermi cosa è questo cos'è questo aspetta aspetta questo cuore si scioppa tutto esplode tutto salta negozio vediamo un po negozio vediamo che non si vede negozi acquista acquista ovviamente si acquista sempre ragazzi qua purtroppo si acquista tutto mannaggia la miseriaccia pistola latte esplode tutto ma non si può esplodere tutto che ci vogliono 400 dollari e per qua oh attenzione me ci sono superato corri recupera quello ragazzi forza allora di qualcosa ai nostri amici non so cosa possiamo dire questi amici qua non bisogna arrivare primi no vabbè no infatti no si deve soltanto correre ma non si cade si cade cioè questo si fai così si cade o le caramelle non si possono mangiare purtroppo no guarda quello come corre guarda quello come corre siamo andati di qua si chiama 8 bit 8 bit no quello lì è un altro personaggio si chiama scema come si satanico allora posizione di salute vabbè lari 17er per cento di 17% pi se non'll ralda volto chiamano maia rosse大 brown facciamo così amici da casa sentiamo sentite un po secondo voi secondo il parere personale chi è meglio cristiano ronaldo o messi? fatecelo sapere nei commenti secondo me messi però vabbè poi ognuno c'è il suo ammione questi palloncini bellissimo bellissimo che sono queste palle? questi pure cato hai capito è caramella gigante bellissimo continua così ottimo zio ottimo bravo grazie lascia ritorni indietro tutto dietro ma no continuiamo continuiamo ok così così bravissimo stiamo andando e stiamo giocando benissimo ok c'è poi 24 per cento dai dai arriviamo a 100 ragazzi così prendiamo questo bellissimo tappeto volante ci vediamo un po poi allora bombina di velocità vabbè vai c'è poi questo pure penso che scompaiono ok fammi vedere oh non c'è più niente mamma mia ecco che ricompaiono no va bene va bene vai riprendiamo riprendiamo ok questo qua un checkpoint benissimo 27 per cento dai 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 oh guarda quanti zucchi guardasi guarda quanti zucchi oggi non posso toccare il 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 non posso toccare il 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 giallo come non puoi toccare il giallo sfida ah ah ok hai fatto una sfida quando il colore giallo lui non lo tocca e se esce una cosa di giallo che devi toccare per forza no era già uscito ma non lo tocca ah ok questa ci sta aspettando hai visto no non ci sta aspettando come lo saltava questo è il rosa ma non bisogna andare sul rosa ma questo corre non salta nemmeno solo qua salta ok ok oh guarda questa gramella guarda ma è caduto è caduto non è caduto sono la calmissima che non tingo la lagge iente non salta ANCO no Vjets ma perché forse perchè mi fai questo 段ese attraverso la dobbiamo saltare ok ok aspettare aspettare le scale aspettare le scale ok benissimo benissimo 35 per cento anche che vuol dire anche la classifica zio però un'altra cosa va beh o questo è un velocitore come corre eccolo e ciao come si chiama questo non saltare aspetta come si chiama non saltare esatto voi lo conoscevo allora non riesco a capire come si chiama vabbè vabbè lasciamo perdere vabbè non è che scemo ti volevamo salutare ma non ti salutiamo pazienza il cielo non sta uscendo vedi meno male è tutto arancione è caduto halloween ragazzi è scritto halloween e voilà e siamo caduti anche noi siamo caduti anche noi no non fa niente poi ci metterò quindi qua le sono tante risate adesso no metti tutte cose tutte le voci di halloween vabbè ci sono qua guarda quante se ne sono qui guarda allora vai va bene dai dai arriviamo al 30 arriviamo al 100 per cento forza a 39 magari no dai vincenzio concentrati dai vincenzio concentrati vincenzio vincenzino chiamami luigi pio per ora in po' luigi pio perché questo nome come dire questo nome vai vai su questo a scuola c'è un mio che si chiama luigi pio ah ok ciao luigi pio ti salutiamo e ma lui non sa che ci sono i nostri video non lo sa non lo sa non lo dico io ho detto che ci sono 6800 iscritti e lui ha detto rosa anche pure lui non lo dico va bene va bene va bene comunque non lasciamo perdere sto come si chiama luigi pio e pensa a giocare ai nostri amici che interessa dei ok c'è poi 41 per cento dai forza dai 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 che sentato benissimo ma amici visto questa è la prima volta che veramente siamo quasi per terminare un gioco forse chi lo sa forse si scompaglia nooo mannaggia ok mio figlio una capra eh capra 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 come te come me si è che sono una capra si ma piazza ma non so lo so allora attenzione questi che fanno questo no niente non fanno niente va bene da qui qui qua sulla freccia verso la freccia dai e sennò non prendi bucchi che hai fatto se sbagli ho scusato hai scappato e va bene dai non fa niente perché non dice a fare non è importante allora altro checkpoint benissimo anche queste sono così va bene va bene allora ragazzi mi raccomando e lasciate qualche commento dai su fateci sentire la vostra opinione la vostra voce la freccia non la vuoi toccare no eh se vuoi torni indietro forza a toccarla tenete qua non si va avanti se non metti il checkpoint vedi se non prendi il checkpoint non aumenta il 46 vedi 47 visto e poi 48 49 e puzzone e puzzone dai allora 48 forza ok 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 attenzione qui mamma mia mamma mia mamma mia ragazzi stavamo quasi saltare lontano d'acqua ma ci riesco ma ci riesci Luigi pione Luigi pione ma comunque allora a proposito io bevo un po d'acqua scusate ragazzi nel frattempo che mi metti no gioca chi è chi è shonik 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 ah grazie grazie guarda guarda stiamo giocando il video allora ciao a tutti ecco qua questo è il papà di vincenzino mio fratello attenzione ma questo è difficile ma questo non è difficile che stava fa dobbiamo arrivare a 100 dobbiamo arrivare a 100, bollano cittissimo 56 che vabbè piano piano si arriva su parte 100 ok ok 60% 70 per cento contrari andare dai dai suburban dai 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 sì dai dai giochiamo bene arriviamo a cento per cento dai ok è la scatolina dai ma quello che c'è davanti a noi ci ha proprio superato di brutto se l'abbiamo andato avanti 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 oppure spesso di giocare chi lo sa ok 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 che caccia è successo cosa è successo guardate qua ragazzi salta ok 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 stavo per dire abbastanza facile ma mi sa mi sa che sbaglio ma che fai è possibile di questi posso toccare solo il bianco no ah vuoi toccare solo il bianco sfida ok sfida lui vuoi toccare solo il bianco benissimo attenzione da andare sul viola il rosso non posso toccare non il rosa no il rosso si questo no va beh questo qua è facile dal 84% dai 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 soltanto 5 e dai e dai 96 ok benissimo vai lo sai che esiste un metto così così al centro ok benissimo dai 98 ma che ultimi due ultimi c'è un certo allora tu sei 900 9.000 io 9.000 se non ti spieghi per giù 900 anzi 9.000 ultimo ragazzi signori ma la veloce veloce arriva c'è da forza dai che manca l'ultimo andiamo così allora il tappeto volante gratuito e ora come si vuole come funziona aspetta torno indietro va avanti così ma che cavolo che cos'è e così va su sentiero viola non c'entra niente ricaviamo scusate io voglio capire una cosa ah eccolo qua e adesso va bene amici allora abbiamo finito ecco qua abbiamo finalmente riuscito a superare un qualcosa finalmente un quadro ci sei riuscito bravo bravissimo anche io ho pieno mezzo di questo giorno spero allora salutiamo i nostri amici ciao fan vi aspettiamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale mi piace e attivate la piccola campanellina campanellina delle notifiche così così arriveranno tutte le notifiche e vi siete sempre aggiornati ma va bene va bene comunque comunque dai così vi riuscirete a vedere il prossimo video ragazzi con questo vi salutiamo un bacione a tutti ciao ciao